Adesso andiamo sull'uso delle bottiglie di plastica e vetro. Allora, le bottiglie in plastica possono cedere nell'acqua composti potenzialmente tossici, derivanti dal continitore involucro in PET, soprattutto se esposte al sole o ad alte temperature. Il calore e il trasporto aumentano la proliferazione batterica dell'acqua. Sia nelle bottiglie di plastica, sia in quelle di vetro. Ed è proprio questo il motivo per cui il Decreto Legge 31 ha aumentato il limite di tolleranza della carica batterica nell'acqua in bottiglia, rispetto ai limiti fissati nell'acquedotto. L'utilizzo delle bottiglie di plastica e vetro comporta un aumento dell'inquinamento per il trasporto su gomme per i rifiuti. Ma soprattutto l'acqua in bottiglia è soggetta a minori controlli rispetto a quelli erogata dal rubinetto. E infatti, ecco, tutto questo è stato ribadito, anche se in modo non così sistematizzato, dal nutrizionista dell'ASI, il dottor Bolsi, in una riunione che abbiamo fatto questa settimana e che è seguita a quella della settimana scorsa. Per cui i controlli fra l'acqua erogata in bottiglia, la quale ci affidiamo in gran parte, e quelli appunto invece sull'acqua erogata dall'acquedotto, proprio non hanno confronti. Però, per dare una risposta analoga alla domanda che faceva prima Comerci sulla sicurezza, è indubbio che i genitori siano allertati e allarmati su quest'acqua erogata, come lo siamo tutti. Perché la pratica corrente, la formazione di lunghi anni, fa sì che ci sia un ricorso all'acqua in bottiglia rispetto che all'acqua erogata. È probabile che per buona parte si tratti di una cattiva formazione, nella quale ricadiamo tutti, come per tutto quello che riguarda l'educazione alimentare. Per cui occorrerà che l'amministrazione dia luogo a una capillare informazione e relativa ai controlli effettuati, che vengano esposti, perché diversamente fiorisce la proliferazione non batterica, ma delle illazioni, come è naturale. E di principi, quindi l'esposizione dei controlli esposti, e potremmo dar luogo anche a un protocollo con l'ASL, con l'ARPA, eccetera, ecco, per garantire ai cittadini quello che viene effettuato e del quale probabilmente non sono consapevoli. Grazie.